Jack Miller vince a sorpresa il Gran Premio d'Olanda nella classe MotoGP al termine di una gara rotteria condizionata dal meteo e divise in due per colpa dell'interruzione al 14esimo giro per colpa di un unifragio che si è abbattuto in circuito di Arsenal. Tuttavia alle spalle dell'austriato della Honda, il compagno di marca Marchese che allunga il vita al Mondiale e l'inglese Scott Reckling in sella di una ducati Pramac, cadute per educatisti doviziosi, petrucci e per parecchi rossi a bordo della sua Yamaha M1, i quali hanno dominato la prima parte della gara, figlia numero 3 e posizione. Quanto posto per lo spagnolo Paul Espargaro con la sua Yamaha Tech 3 si è lasciato alle spalle di Armoni e il connazionale Barbera, entrambi ci ducati. Lecce la posizione per lo spagnolo da Yamaha, Jorge e Lorenzo. La ingara è in grandi filo per il suo banale. Grazie per l'ascolto e per la visione. Un saluto, a presto e a presto.